E' Ciro Florio l'ospite d'onore di questa giornata allo stand di Donna TV. Presentato dalla vulcanica Anna del Prete e con la collaborazione di una signora del pubblico, il look designer ha dato una dimostrazione della sua innovativa tecnica antirughe, rigorosamente senza bisturi. E' un modo per nascondere, per tirare, per liftare in maniera diciamo eccezionale, straordinaria, la pelle quando ci sono delle pelle. Un make up tridimensionale in grado di eliminare qualsiasi difetto del viso e del corpo, dall'effetto temporaneo ma ideale se si vuole apparire al meglio per un'occasione importante. E' interessante capire qual è l'alternativa alla chirurgia. Il dismorfismo, cioè non accettarsi, saltare lo specchio, non accettare delle parti di sé è molto diffuso. Questa tecnica ti permette di vedere, prima che fai un intervento chirurgico, ti permette di vedere come stai. Cioè come stai senza doppiamento, cioè come stai senza una borsa. Perché tutti pensate che dicono, vabbè, normale sto meglio, non è vero. Io ho conosciuto gente che hanno tolto una borsa e ci hanno messo tre anni per accettarsi senza la borsa. Usando unicamente un filo vegetale, il conduttore di Make Me Up ha effettuato un lifting perfetto e ha stupito tutti i presenti mostrando la differenza tra la metà del viso non trattata e quella sottoposta al trattamento.